ben trovati con questo video ci occuperemo appunto così come il titolo dice delle impostazioni di un modulo google ovviamente con revisione manuale e valutazione personalizzata delle domande anche delle domande aperte questo video così come già sappiamo è presente all'interno della playlist google apps presente nel canale formazione rt e vi invito poi a sbirciare tutti gli altri video fino a questo momento inseriti di che cosa ci occuperemo oggi sostanzialmente vedremo insieme passo passo come strutturare quindi attraverso appunto google moduli dei test disciplinari che permettono al docente a noi docenti di intervenire in correzione manuale e personalizzata delle domande aperte anche relativamente al punteggio e al feedback beh per procedere ovviamente passo passo così come nel nostro stile venite con me perché proprio al di sotto del video che stiamo guardando c'è il la descrizione e ho fatto un clic su mostra altro mostra altro sostanzialmente mi permette di vedere tutte le varie informazioni ecco che qui spunta immediatamente il rigo relativo al modulo da copiare per sperimentare direttamente appunto durante il video carissimi colleghi possiamo fare insieme lo faccio anch'io con voi un clic su questo link del forms del modulo in modo tale da poter facciamo clic entrare insieme all'interno del modulo che ho preparato per tutti quanti noi in modo da procedere gradualmente passo passo in questa scheda ovviamente siccome l'ho messa a disposizione di tutti quanti noi in copia possiamo fare un clic su crea una copia io faccio il clic voi fate il clic e dopo qualche istante ecco un modulo questo modulo ha la seguente caratteristica ovviamente ciascuno di noi può produrre e produciamo tranquillamente i nostri moduli il l'esempio con il quale ci stiamo approcciando vede un modulo che dovrà essere e lavoreremo insieme sulle impostazioni potrà essere inviato dai nostri allievi quindi come consegna una sola volta e non più volte loro non vedranno il risultato immediatamente perché noi vogliamo inserire manualmente un feedback o comunque una correzione su una di queste domande analizziamo vediamo come è costituito questo modulo niente di particolare ne facciamo tanti sostanzialmente noi prima di analizzare il modulo rendiamoci conto di una cosa venite con me perché dopo rientreremo fate anche voi proprio per renderci conto effettivamente che questo modulo è arrivato all'interno del nostro drive entriamo all'interno del drive facciamo un clic su recenti e troveremo tutti quanti insieme in questo istante la visibilità all'interno di recenti di copia di modulo di sperimentazione eccolo qui in miniatura quindi tutti quanti noi abbiamo questo modulo questo modulo lo invieremo fra un po a noi stessi per vedere anche come è possibile realizzare la stessa operazione quindi lo stesso la stessa strutturazione con le impostazioni che andremo a visitare insieme anche in classroom ma procediamo per gradi questo è un modulo che si compone lo possiamo sfogliare insieme semplicemente di tre domande tre domandine due sono le classiche domande a risposta multipla e una è una domanda aperta all'interno di questo modulo che è stato già preimpostato con a modi test quindi non è un questionario abbiamo anche il totalizzatore dei punti pari a dieci bene entriamo nell'analisi delle domande quanti stati da quanti stati è costituita la unione europea se facciamo un clic sul titolo ci accorgeremo che è proprio per effetto dell'impostazione che ho voluto precedentemente realizzare io tanto che sappiamo far tutti questa domanda ha un già una risposta corretta evidenziata dal visto di colore blu è obbligatoria e in chiave di risposta io mi ritrovo con i già tre punti impostati entrate con me in chiave di risposta faccio un clic io fate anche voi un clic e ovviamente potremo scoprire che questa domanda al di là della risposta corretta e dei punti che facciamo tutti quanti ha già impostato dei feedback che sono dei feedback generali cioè tutti i nostri allievi quando avranno il riscontro quindi la restituzione di questo modulo se avranno risposto bene quindi il feedback per le loro risposte corrette sarà bene se avranno sbagliato la risposta beh si ritroveranno con un asino l'ho detto in pugliese e con la visione consigliata ma di un video allora cari colleghi questi feedback sono stati precedentemente inseriti come si fa inserire un feedback beh nella parte sottostante beh io adesso vado a togliere questo bene guardate si possono inserire e anche togliere quindi vado a cancellare questo bene faccio un clic su salva guardate c'è soltanto il feedback per risposta errata nel momento in cui vado nell'ultimo ecco chiave di risposta qui potrei aggiungere un feedback sulla risposta e potrei andare ad inserire qualcosa di opportuno sotto ogni domanda compare sempre in chiave di risposta la possibilità di aggiungere un feedback dunque stavamo sulla prima domanda io posso andare nel momento in cui ho tolto il feedback corretto a inserire con un clic sulla matitina e eventualmente di nuovo al di là della risposta errata ecco scrivo asino scriviamolo insieme risposta corretta faccio un clic e posso scrivere bene punto esclamativo potrei anche mettere un video o un link lascio sperimentare poi faccio un clic su salva bene io ho predisposto tre punti per la risposta corretta con due feedback che arriveranno a prescindere dai vari allievi a tutti quanti si hanno risposto bene o male qual è la moneta la seconda domanda ovviamente faccio un clic su quale della moneta per rendermi conto che sto reagendo con la parte della domanda in forma di struttura dove il feedback nel caso risposta corretta l'ho impostato su benissimo e caso risposta errata su studio di più ho inserito un altro video beh faccio un clic su fine qui vediamo se avevo fatto un clic anche qui si era chiusa e andiamo a questo punto a scoprire la novità la novità è che questa domanda quali sono gli obiettivi dell'unione europea che vale quattro punti 4 più 3 più 3 fan 10 è una domanda aperta e io quindi sostanzialmente non potrò valutare prima nel momento in cui costruisco il modulo la bontà della risposta perché possono essere infinite declinate con tutte le parole inserite in modo opportuno quindi non è prestabilibile la risposta corretta e allora c'è un momento particolare di analisi che prima di procedere voglio nuovamente sottolineare ecco qui l'impostazione di un modulo con revisione manuale voglio intervenire manualmente su quella risposta del mio allievo e eventualmente personalizzare la valutazione della domanda anche se è aperta soprattutto se è aperta e allora venite con me perché è arrivato il momento in cui considerando questa situazione come un modulo qualsiasi che noi andiamo a realizzare dobbiamo saper interagire con le impostazioni ed ecco qui una novità di questo periodo è settembre 2021 la classica rotellina che è disposta qui in alta sulla destra all'interno dei moduli che con un click ci permetteva di andare ad impostare abbiamo già utilizzata appunto tante opzioni non è più presente e google ha preferito inserirla accanto al classico domanda e risposta facciamo un click su impostazioni beh innanzitutto io avevo già prima di consegnarvelo in copia trasformato in un quiz e quindi c'è il tondino blu e ora attenzione all'interno di queste impostazioni noi classicamente abbiamo sempre impostato per default subito dopo ogni invio questa volta invece siccome vogliamo rispondere ai nostri allievi inserendo un feedback personalizzato quindi entrando anche in una eventuale ecco correzione di quello che hanno scritto poi ci sono tanti modi per subentrare interpretare e per metterle nostre abili mani per orientare al meglio ciò che hanno fatto i nostri allievi e fornire un più che una valutazione appunto anche un eventuale solo feedback allora dobbiamo impostare questa voce successivamente dopo la revisione manuale allora io posso a questo punto fare un click ma attenzione dovranno essere attivate le ri in attiva risposte raccoglie indirizzo email altrimenti non si potrà fare quindi io inserisco questo puntino ho fatto questa scelta relativamente appunto agli indirizzi email io scendo in basso venite con me e posso andare in risposte a fare un click sulla punta di freccia di volta verso il basso dove eccolo qui è necessario pubblicare i voti manualmente o inviare copie delle risposte allora noi possiamo scegliere eccolo qui con un clic di attivare la raccolta automatica degli indirizzi email perché abbiamo bisogno di notificare i nostri allievi nel momento in cui loro ci invieranno il modulo e noi andremo a personalizzare la valutazione beh se personalizzata dovrà aggiungere soltanto a loro quindi abbiamo bisogno del loro indirizzo e allora dobbiamo saper opportunamente abbinare la raccolta dell'indirizzo perché deve aggiungere qualcosa a loro e poi eccolo qui di nuovo un click su successivamente dopo la revisione manuale ora questa sarà stabile come scelta perché ovviamente è subordinata alla raccolta dell'indirizzo email a questo punto venite con me perché scendendo in basso io vado visto che sto utilizzando un account della della workspace di arete a eliminare la voglio dare anche a voi questa questo lavoro che sto realizzando all'interno di classroom lo faremo dopo ma in autonomia ciascuno di noi potrà cimentarsi con l'invio e anche la correzione vediamo allora io tolgo nel caso mio specifico eventualmente se volete inviare questo modulo che state realizzando con me a un vostro convivente marito moglie figlio semplicemente per sperimentare come vanno effettivamente le cose prima di bilanciarci con i nostri allievi allora sarà il caso di rimuoverlo se siete all'interno della vostra workspace poi io vado a lasciare limita una risposta cari colleghi semplicemente perché io non voglio che i miei allievi dopo aver inviato il primo il inviano il secondo il terzo perché altrimenti mi generano caos soprattutto perché la caratteristica di queste impostazioni si fatte è la seguente affinché noi possiamo effettivamente realizzare una revisione manuale intervenendo scrivendo qualcosa relativamente alle risposte date sarà necessario il tempo che ci vuole per entrare all'interno di tutti i vari moduli dei nostri allievi e quindi realizzare la revisione manuale quindi loro non l'avranno immediatamente se non l'avranno immediatamente il ritorno ecco della correzione del punteggio cosa accade penseranno o non ho fatto bene cercheranno di rifarlo di rifarlo tante volte e quindi è il caso anche di limitare una risposta bene cari colleghi sarà fondamentale muoversi e controllare sempre che limita una risposta ci sia raccogli indirizzi email ci sia e successivamente dopo la revisione manuale ci sia perché a questo punto che cosa succede al netto che potremmo entrare nel merito di tutte le altre impostazioni ma sarebbe un po eccessivo per l'obiettivo di questo video abbiamo sostanzialmente terminato se ritorniamo all'interno delle domande ci accorgeremo che ecco i nostri allievi a differenza di prima dove mancava quando l'abbiamo aperto mancava rispondere domande e mail i nostri allievi si ritroveranno sostanzialmente con la richiesta delle mail ma se noi inseriremo un email la mail dei nostri allievi loro non dovranno reinserirla perché automaticamente google moduli lo va a prendere in considerazione lo vedremo fra un attimo e allora il modulo con tre domande una aperta vale tre vale tre vale quattro ma non può moduli da solo inserire il punteggio dobbiamo fare eventualmente noi dopo dobbiamo avere il tempo di farlo loro i nostri allievi non potranno subito ottenere il risultato sia di punteggio ma anche dei feedback perché abbiamo impostato che c'è una revisione manuale vediamo che cosa succede dall'altro lato se il modulo è pronto tutti quanti noi sappiamo che lo possiamo inserire ovviamente all'interno di classroom ma questo lo faremo dopo vediamo come cavarcela in maniera tale da riuscire immediatamente interagire con questo video e fare non solo la parte degli allievi e verificare quello che vi ho detto ma anche la parte dei docenti che poi inseriscono effettivamente all'interno del modulo il la valutazione la revisione manuale in termini di appunto valutazione o di feedback venite con me basterà fare un click su invia in alto a destra ed inserire nel caso specifico non stiamo all'interno di classroom semplicemente il l'indirizzo ecco io l'avevo già predisposto il mio è questo ovviamente vado ad inserire questo mio indirizzo e fra qualche attimo dopo l'invia io ma anche voi avrete la possibilità di entrare nell'indirizzo eventualmente anche gmail quindi personale e rendervi conto che quello che abbiamo impostato vale vediamo se è vero a questo punto io faccio un click su invia ed è stato inviato allora tutti noi ben sappiamo che dopo la risposta troveremo l'uno qui accanto risposte io vado in questo momento da questo mio browser impostato col profilo che ho utilizzato della workspace di rt mi sposto e raggiungo l'altro mio profilo con l'indirizzo che ho inserito come destinatario del modulo siccome ho inserito la gmail gli arriverà mediante gmail e allora il tempo di andare ad aggiornare ecco vediamo se arriva non è ancora arrivato un attimo e vediamo che cosa è successo vado qui vediamo se l'indirizzo era corretto sì è corretto rifaccio l'invia c'è bisogno ovviamente di qualche attimo di tempo per riuscire eccolo qui è arrivato sicuramente sarà arrivato anche a voi io apro la comunità europea entro quindi attraverso la mail nel compila modulo sono il destinatario nel caso specifico l'allievo ed ecco che mi compare la il modulo in questo caso google mi mette a disposizione sì le tre domande ma anche la possibilità di inserire la mail quale mail andrò a mettere la mail ovviamente del mio essere allievo quindi vado ad inserire il mio indirizzo email di allievo quindi se lo inviate a vostro marito moglie dovranno mettere la loro gmail figli la stessa cosa ognuno mette la sua mail in modo che relativamente a quanto impostato precedentemente questa mail sarà il l'oggetto che era preso in considerazione dalla pubblicazione del punteggio vedremo fra un po cioè come destinatario automatico di della restituzione del modulo allora noi siamo gli allievi in questo caso in questo gioco di ruolo il docente non ancora ricevuto nulla l'allievo si cimenta e ecco fate con me una risposta giusta una sbagliata e poi quella aperta la risposta a da quanti stati è costituito l'unione europea sono 27 sbagliamola mettiamo 28 qual è la moneta beh è l'euro una giusta mettiamola e quindi inseriamo l'euro e ora andiamo alla domanda aperta nel momento in cui si stiamo cimentando noi da docenti in questo caso siamo allievi sappiamo che automaticamente google dirà qui 0 qui 3 e qui facciamo il caso che in maniera molto sintetica il nostro allievo scriva bla bla tanto stiamo semplicemente sperimentando per comprendere allora noi a questo punto sappiamo che i nostri allievi solitamente al termine loro lo sanno benissimo fanno un click su invia la caratteristica delle impostazioni che precedentemente abbiamo inserito all'interno del nostro del nostro ruolo i docenti è quella che non possono subito vedere così come classicamente avviene senza quell'impostazione il risultato perché c'è bisogno della revisione manuale quindi noi dopo dobbiamo entrare in merito al alla consegna e scrivere qualcosa lo faremo un po' fra un po' poi abbiamo limitato a una sola risposta e quindi non hanno il pulsante invia di nuovo invia di nuovo cosa che talvolta da un po' fastidio comunque genera caos in noi docenti vediamo che il nostro allievo non potrà far più nulla rientriamo all'interno del nostro essere docenti troviamo in risposta ovviamente una risposta la risposta e andiamo individualmente non tramite epilogo domande ma mediante individuali a vedere che questo nostro allievo magari con la mail dell'istituzionale lo riconosciamo insomma potevamo anche richiedere con una domanda inserisci nome e cognome per attribuire perfettamente la mail al rispettivo allievo ma ad ogni buon conto questa noi ce l'abbiamo abbiamo soltanto uno di uno potevamo anche averne diverse di risposte quindi potevamo percorrere con i vari clic che adesso sono inattivi perché c'è soltanto uno tutta la visibilità di tutti i nostri allievi entriamo nel merito di questo oggetto di questo modulo che ci è stato inviato attenzione non è stato pubblicato il punteggio sarà fondamentale il passaggio attraverso questo pulsante fra un po' entriamo nel merito della nostra della visibilità di ciò che ha compilato beh è inserito la mail lo sappiamo da quanti stati è costituita l'unione europea beh l'abbiamo sbagliata apposta il punteggio che va a associare google moduli e zero ce l'aspettavamo la caratteristica importante che con i feedback permette anche la visibilità della risposta corretta che 27 e come commento relativamente alla risposta data c'è un asino l'abbiamo inserito insieme e la visibilità del video nel caso di risposta corretta una corretta l'abbiamo fatta insieme il risultato il punteggio ovviamente lo mette al massimo quello previsto era tre ce lo ricordiamo e l'ha inserito ovviamente fa vedere a differenza di su che è corretta quindi la tenuta con il visto verde qui c'era la x rossa la sbagliata e il commento è benissimo non fa vedere quando la risposta è corretta la l'eventuale feedback negativo anche se noi possiamo integrare su questa su questo commento che arriverà a tutti gli allievi che hanno risposto correttamente arriverà a tutti quanti benissimo noi per questo specifico allievo possiamo integrare come aggiungi feedback singolo benissimo si vede che stai studiando di più un clic su salva che cosa succede un altro salva solo questo allievo a differenza degli altri che avranno risposto bene avrà oltre il feedback generale quello che arriva a tutti questo anche individuale con questa integrazione bene noi possiamo quindi entrare nel merito del feedback su tutte le domande ma la cosa importante è raggiungere la domanda aperta vediamo che cosa ha risposto il nostro allievo beh lo sappiamo l'abbiamo scritto noi poco fa nel gioco ruolo ruolo di docente allievo ha scritto bla bla ovviamente non essendoci un correttore già la denota sbagliata con la x rossa ma questo deve intendersi come un un indicatore su cui porre attenzione perché guardate il punteggio non c'è beh noi non sapevamo quale combinazione di caratteri andasse a scrivere il nostro allievo non potevamo preventivamente sbilanciarci su se risponde così è corretto se risponde così è sbagliato e quindi non c'erano feedback ma abbiamo la possibilità proprio sulle domande aperte di fare la stessa cosa che abbiamo fatto come raffinamento sulle domande risposta multipla possiamo entrare in aggiungi feedback singolo ed esprimere sei stato molto sintetico e ti credo però potrebbe andare su fatemi di questa cosa per incoraggiarmi perché sono io io con io insomma faccio un click su salva cari colleghi cosa succede viene solo questo modulo solo di questo allievo denotato con questo feedback individuale che è un feedback ma se noi andavamo a chiedere di inserire la poesia la cavallina storna e quindi tutte le parole potevamo nel feedback individuale adottare un sistema proprio vero e proprio di correzione potevamo eventualmente andare a esprimere una domanda aperta racconta il calcolo di 5 più 5 scusate la banalità e quindi qui potrebbe scrivere qualcosa in equazione di secondo grado come l'hai determinato noi potevamo entrare nel merito proprio della dell'aggiustare quello che aveva indicato scritto il nostro allievo e allora si presta veramente a tantissime eh utilizzi per credo diverse discipline potevamo anche nella domanda inserire un sto immaginando in questo momento un'immagine un'immagine di un'opera d'arte e potevamo andare a richiedere determinate informazioni e poi anche eventualmente correggerle allora se è chiaro come stiamo agendo ovviamente abbiamo delle modifiche in sospeso beh abbiamo modificato questo documento questo documento che ritornerà al nostro allievo questo modulo facciamo clicca su salva e a questo punto vediamo che cosa succede se scendiamo in basso abbiamo dimenticato di mettere il punteggio perché se ha risposto ehm se è stato bla bla e quindi noi abbiamo espresso un ma è andata così così cari colleghi noi possiamo rientrare nel merito di facciamo un clic ecco feedback nel nella freccettina un clic su eh potrebbe andare ecco su salva e a questo punto entriamo a mettere un due beh se è andata così così non è quattro non è zero né uno né tre ma ognuno può scegliere quello che può essere il valore il punteggio faccio un clic su quattro e consentitemi di ritornare impostazione di un modulo con revisione manuale e valutazione personalizzata delle domande aperte stiamo facendo proprio questo stiamo inserendo e poi entrando anche all'interno perché no del dettaglio che è stato inserito beh per strutturare attraverso google moduli test disciplinari che permettano al docenti intervenire in correzione manuale l'abbiamo fatto è personalizzata e chiaro le domande aperte e non solo anche relativamente al punteggio e al feedback beh abbiamo realizzato tutto questo e allora andiamo a vedere ritornando nel modulo che cosa può accadere al termine cioè noi abbiamo richiesto una mail abbiamo adottato il realizzato il nostro intervento il punteggio complessivo ovviamente è cambiato rispetto a quello che precedentemente era inserito vediamo un po qui c'è tre qui c'è due quindi sostanzialmente c'è un cinque venite con me perché entrando in riepilogo faccio un click sull'epilogo noi avremo la possibilità di scendere in basso e ritrovarci che questo signorino che poi siamo sostanzialmente io sono io e voi siete voi siamo noi questo signorino che aveva all'inizio tre poi per effetto del punteggio inserito e quindi anche della correzione valutazione o feedback che dir si voglia relativamente alla domanda aperta ha totalizzato un due in aggiunta al tre quindi ha totalizzato un cinque come farà a sapere che ha avuto questo cinque bisogna pubblicare il punteggio e allora se c'erano tanti allievi che mi avevano mandato le i moduli quindi mi avevano risposto al modulo e quindi magari su una classe di dieci due lo fanno oggi uno lo fa adesso tre lo fanno stasera e se stiamo lavorando diciamo a distanza o comunque utilizzando classroom non perché a distanza perché vogliamo semplicemente anche se li abbiamo tutti quanti in classe dilatare distribuire differentemente insomma il carico il peso insomma ognuno di noi ha un modo di interagire in modo differente per ogni singola disciplina classe allora se non rispondono tutti insieme io posso con l'insieme di scelte adottate precedentemente quindi la revisione manuale quindi invialo dopo la revisione manuale la scelta che abbiamo effettivamente realizzato poco fa decidere di inviare uno due o eventualmente tutti insieme se qui ce ne fossero stati dieci avrei l'elenco di tutte e dieci potrei fare un clic su pubblica punteggio e lui in automatico avrebbe ovviamente mostrato tutti i dieci indirizzi ovviamente quelli che hanno consegnato compaiono quelli che non hanno consegnato non avendo inserito la mail non compare la mail quindi io posso attendere che arrivino tutti o se qualcuno si trova fuori tempo non riceverà la mail con la pubblicazione del e quindi la restituzione effettiva del modulo cosa stiamo facendo relativamente soltanto a noi tanto stiamo sperimentando proviamo a fare un click su invia email e pubblica che cosa succede succede che il sistema ci segnala che il punteggio è stato pubblicato questo giorno a quest'ora e quindi di conseguenza è arrivato qualcosa al nostro allievo andiamo a vedere io mi sposto da questa finestra e ovviamente raggiungo la finestra dell'allievo consentitemi di riavvolgere il nastro rientrare nella gmail perché nella gmail fra qualche attimo diamo un attimo di tempo arriverà punteggio pubblicato da il docente e riporterà come punteggio 5 su 10 e ovviamente ci sarà anche relativamente al bla bla che ha inserito sto signorino poco fa ci sarà anche la visibilità di ciò che il docente ha ritenuto opportuno inserire allora giusto qualche attimo di ritardo vediamo se abbiamo fatto le cose per bene se il punteggio è stato pubblicato rientriamo all'interno di individuali ecco qui 2 su 10 punti dovrebbe essere tutto a posto vediamo di sollecitare il la ricezione del del punteggio impiega qualche altro attimo di tempo vediamo un po magari mandate in avanzamento questo video il tempo che io attendo effettivamente che mi ritorni ecco qui aspettiamo ancora un attimo mi viene un dubbio mica l'ha mandato all'interno vediamo 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 dello spam no e allora dovrà arrivare fra qualche attimo e allora verificheremo che è tutto ok ma nel frattempo consentitemi di avere di usare una coccola nei vostri confronti cioè se io realizzo un modulo si fatto e ho voglia di andare a inserirlo con le rispettive impostazioni all'interno di classroom per assegnarlo interamente alla mia classe beh che cosa posso fare venite con me perché il modulo ovviamente già stato impostato il modulo è presente all'interno del drive all'annetto di questa unica risposta noi ci possiamo permettere magari nella caso specifico in cui ciascuno di noi relativamente all'utilizzo di classroom si ritrova con l'inserimento di un modulo ovviamente non sarà sporco come il mio ma volevo farvi vedere come sarà possibile entrare all'interno di classroom io sto entrando in classroom è un classroom particolare apro un inciso abbiamo inserito all'interno della descrizione di questo video anche il codice per entrare all'interno di questa classe virtuale che abbiamo realizzato in arete perché entrare per essere allievi e provare quel modulo se ne avete tempo e voglia ma soprattutto perché nell'hashtag 10 quindi all'interno della visibilità ecco qui nell'hashtag 10 il video precedente differenti tipologie di compiti in classroom ecco abbiamo costituito e creato questa classe questo il video relativo e chiunque di noi potrà guardando il video rendersi conto che in questa classe all'interno dei lavori del corso ci sono varie tipologie di compiti particolari che ho voluto realizzare con quiz e feedback più audio ecco un compito composito di un modulo con un documento google maps con google moduli insomma ci sono diverse cose interessanti anche un escape room con google moduli e allora al netto di questo inciso io entro all'interno di questa classe lo sto per assegnare a voi ho già preimpostato questo modulo con revisione manuale valutazione l'ho messo in bozza precedentemente a questo mio intervento con questo video e mi posso permettere cari colleghi di avendo preimpostato tutto per non perdere tempo durante e quindi l'attesa nello scrivere relativamente a questo video in recenti che cosa ho ho la copia di modulo che abbiamo precedentemente realizzato insieme in parallelo beh è lo stesso a questo punto io prevedendo per tutti quanti voi studenti vado ovviamente se vi entrerete con quel codice vado ad assegnarlo attenzione l'ingresso all'interno di questa classe deve essere siccome fa parte della suite di della workspace di arrete deve essere realizzata con una gmail personale non con l'account istituzionale e allora dopo essere ovviamente entrati tutti quanti voi avrete la possibilità e vediamo io sono allievo anche in questa classe con quest'altro account vediamo se mi è arrivato e vediamo come posso eventualmente interagire entro in classroom come allievo di avevo la camicia bianca nell'altro allievo qui ho la camicia celeste ecco diverse tipologie entro in lavori del corso potete entrare anche voi troverete il modulo con revisione che poco fa ho assegnato tutta la classe visualizzo il compito come potreste visualizzarlo voi posso leggere qui varie informazioni ma stai facendo un clic su modulo mi ritrovo con ecco era necessaria la richiesta di autorizzazione perché dovevo prevedere ecco quanto è importante avere la possibilità di fare landi rivieni tra una classe e l'altra consentitemi io entro all'interno di visualizza compito sappiamo tutti che con le istruzioni possiamo entrare nella correzione di qualche eventuale anomalia che si è presentata ed ecco che nelle impostazioni io mi rendo conto che ho evidentemente commesso un'imprudenza sul settaggio delle impostazioni vediamo eccolo qui era rimasto limita gli utenti agenzia formativa rete allora lo tolgo verifico così può arrivare a tutte le gmail abbiamo detto di entrare con la gmail in quella classe quindi non siete con l'account istituzionale perché ci avete quella scuola non guardia rete limite una risposta va bene raccogli indirizzi va bene successivamente dopo ogni revisione va bene cari colleghi a questo punto il modulo è un errore che si può ovviamente commettere il modulo si aprirà senza nessun problema all'interno della classe vediamo se è vero aggiorno la il tutto faccio un clicca sulla comunità ed ecco che sono entrato e posso entrare guardate adesso non mi chiede nel caso specifico la mail perché l'ha acquisita cioè mi chiede sempre la mail ma comunque me la riporta qui in alto e quindi l'allievo assolutamente non si può sbagliare nel mettere chissà quale mail e poi magari dire non mi è arrivato nulla allora vi invito semplicemente a considerare l'inserimento della mail poi a rispondere e a rendervi conto che effettivamente non potete rimandare null'altro ovviamente siete tanti non entrerò nel merito della della correzione assolutamente per carità però mi piaceva anche farvi vedere come è possibile inserire il modulo così come è stato realizzato e impostato in separata sede rispetto a classroom appunto all'interno di classroom credo che il tempo sia stato sufficiente eccolo qui finalmente è arrivato ce l'aspettavamo abbiamo atteso qualche attimo il ecco no è questo la comunità europea attenzione no non è questo vediamo questo è comunque un allievo il feedback comunque rimane non arriva ancora allora faccio una cosa consentitemi facciamo il giro conclusivo impiega un po più di tempo control c ma io vi devo dare assolutamente ecco rispondo scrivo anche qui bla bla 2 lo invio ovviamente non si può far nulla vediamo vi devo far vedere il punteggio come ritorna sto lavorando ovviamente all'interno di classroom con questo mio allievo consentitemi di entrare all'interno dei lavori del corso vedere che c'è un consegnato sappiamo che facciamo un clic qui facciamo un clic qui facciamo un clic sulla matitina troveremo ovviamente c'è anche la risposta in aggiunta quella precedentemente inserita io entro anche individuali eccolo qui chi ha scritto bla bla 2 vediamo se è vero eccolo qui allora aggiungo un altro feedback semplicemente con sintetico e basta fatemi mettere anche qui ma mettiamo un 1 qui faccio un clic su salva il punteggio totale ovviamente è 4 ritorno un riepilogo in riepilogo e quindi ricapitolando non fa male rientro in questo che il punteggio non pubblicato vedete faccio un clic su pubblica punteggi lo rimando anche all'altro vediamo che cosa succede via email e pubblica sono stati pubblicati entrambi e vediamo che cosa succede nella mail di dovrebbe ritornare meno che non è un ritardo di google giusto in questo momento niente non sta arrivando ma ecco punteggio pubblicato è impiegato qualche minuto in più vediamo questo è il bla bla che aveva scritto l'altro utente vedete quello che ha avuto 5 su 10 quello che abbiamo atteso ripetutamente beh quell'allievo riceve il il punteggio pubblicato che può visualizzare e guardate che bello avrà la possibilità se noi impareremo utilizzare a disciplinare quelle impostazioni di riscontrare effettivamente che con risposta corretta gli indica in base alla x l'errore che aveva realizzato poi c'è effettivamente il commento relativamente all'errore che aveva appunto realizzato e quindi per ogni domanda ha il punteggio e lo può vedere a sia risposta corretta che risposta in caso risposta corretta a risposta sbagliata alla visibilità appunto della risposta corretta e quindi poi il commento quindi suggerimento per aumentare a crescere le proprie conoscenze visto che aveva sbagliato in caso di risposta corretta al feedback individuale che avevamo inserito noi e per quanto riguarda invece la domanda risposta aperta a il feedback individuale che abbiamo inserito e ovviamente la somma 2 più 3 fa 5 5 su 10 e allora carissimi colleghi quello che volevo sostanzialmente rappresentare con questo video sperando di essere stato chiaro è questo noi possiamo entrare nel merito delle impostazioni di un modulo per prevedere anche attraverso delle domande aperte una revisione manuale e una valutazione personalizzata delle risposte date dei nostri allievi e comunque restituirle sia mediante classroom ma anche mediante la classicazione di invio che viene fatta che abbiamo fatto tutti quanti prima di conoscere classroom del modulo ai nostri allievi ma a questo punto proprio per salutarci vi invito a mettere dei like o comunque dei commenti a questo video e vi invito ovviamente a prendere in considerazione se quello che abbiamo fatto è qualcosa di nuovo e sono stato chiaro e avete appreso a prendere in considerazione relativamente al catalogo dei corsi di RT uno dei oltre 40 corsi che abbiamo sistemato all'interno della nostra piattaforma sulla didattica digitale non avete altro che andare effettivamente a sbirciare tutti i vari corsi anche quelli sul classroom sull'estensione google sulla certificazione google primo livello come docente certificato le estensioni google per l'inclusione e quindi anche la gestione del pannello workspace ma anche in forma di proposte per gli istituti da porgere ai dirigenti potete sicuramente sbirciare facendo un clic e vedere quanto è vasta questa offerta ci sono veramente tantissime soluzioni ma davvero per tutti e potete sicuramente portare in i vostri dirigenti ecco ve lo faccio vedere in fondo in fondo in fondo ecco qui clicca qui per scaricare in pdf l'intero documento con tutti i corsi per le scuole che noi realizziamo ma sono davvero tantissime e poggere al dirigente non mi risparmio dal dirvi che il percorso gratuito che stiamo realizzando per tutti gli studenti tutti gli allievi tutti i docenti che ci seguono è ovviamente inserito qui all'interno della piattaforma e sarà possibile ecco io faccio un clic su questo link lo potete fare anche voi subito dopo il passaggio ovviamente ecco lo dobbiamo ecco salta gli annunci mi blocco cari colleghi questo video è il video per entrare nella per conoscere strumenti per la cittadinanza digitale che è un percorso orientato ai vostri allievi questo video dura semplicemente tre minuti e tre lo potete guardare ma soprattutto la cosa che mi viene voglia di sottolineare è io ritorno informazione rete impariamo utilizzare e a navigare ovviamente su questo nostro consentitemi la rimpicciolisco ecco un problema di visualizzazione all'interno di questo canale impariamo a navigare raggiungete con me la playlist semplicemente perché c'è il percorso strumenti per la cittadinanza io lo blocco guardate qui sulla destra la presentazione del canale della playlist come iscriversi gratuitamente al percorso ma la cosa più importante conosciamo il percorso formativo tutto ciò che noi di rete realizzeremo con i vostri allievi durante questo percorso gratuito in classe mediante webinar mediante materiali integrativi in piattaforma di rete per tutto l'anno scolastico duemilaventuno duemilaventidue e allora io ho terminato e ovviamente vi dico che anche qui relativamente al mostraltro ci sono tutti i nostri social e avrete possibilità di entrare a con in contatto con noi grazie per essere stati con noi e vi rimando a tutti gli altri video già presenti a tutti quelli che inseriremo buona sperimentazione